Bella giornata di sport, domenica scorsa a Sciacca, presso l'impianto Sicilia Sport. Protagonisti, i giovani atleti della Icaro Basket Officina Raneli, guidati dal coach Giovanni Monastero. Si è tenuto infatti il raggruppamento per la categoria Aquilotti, ossia i nati, nelle 2013 e 2014. Oltre alla squadra di Sciacca, sono intervenuti i parietà di Ribera e di Cammarata. Per la Icaro, i convocati sono stati Flavio Scarpulla, Luciano Nicolosi, Calogero Nicolosi, Lara Lionessa, Lorenzo Fauci, Valerio Ciaccio, Filippo Montalbano, Francesco Tarallo, Lorenzo Stira, Aurelio Inguaggiato, Alessandro Estero, Marco Bongiovì, Nicolò Ricotta, Giuseppe Migliore e Cecilia Monastero, che hanno disputato tutti una buona prestazione. Questi i risultati finali del triangolare. Icaro Sciacca è stato superato da Ribera per 10 a 14. Ribera poi ha sconfitto il Cammarata per 18 a 6. E infine Icaro ha avuto la meglio sul Cammarata sempre per 18 a 6. Il prossimo raggruppamento per gli Aquilotti si terrà adesso ad inizio del nuovo anno, il 14 gennaio, a Cammarata. Icaro Basca a Tisciacca che adesso ha altri impegni agonistici in programma. Mercoledì 13 dicembre si disputerà la prima partita del girone di ritorno del campionato Under-14. I saccensi ospiteranno alla Sicilia Sport il Marsala. Sabato 16 dicembre invece torna il campionato esordienti. La Icaro Sciacca giocherà in trasferta contro i parietà del Canicattì. Infine in settimana si disputerà la prima partita amichevole per la squadra femminile della Icaro, in campo contro il Mazzara. Si tratta dell'esordio assoluto per la prima volta. Infatti la società di Monastero ha allestito anche una squadra femminile di pallacanestro. Grazie. 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 Grazie.